Pondicherie, 3 aprile 1914. Mi sembra di essere sul punto di nascere a una vita nuova, e che tutti i metodi, le abitudini del passato, non possono più essere di alcuna utilità. Mi sembra che ciò che era un risultato non sia più che una preparazione. Mi sento come se non avessi fatto ancora niente, come se non avessi vissuto della vita spirituale, come se entrassi soltanto nella via che vi porta. Mi sembra di non sapere niente, di non essere capace di formulare niente, che tutta l'esperienza sia ancora da fare. E' come se fossi spogliata di tutto il mio passato, degli errori come delle conquiste, come se tutto ciò fosse svanito per far posto a un neonato, la cui esistenza è tutta da fare, che non possiede alcun karma, non ha alcuna esperienza della quale egli possa approfittare, ma neppure più alcun errore che debba riparare. La mia testa è vuota di ogni conoscenza e di ogni certezza, ma anche di ogni vano pensiero. Sento che, se so abbandonarmi senza resistenza a questo stato, se non mi sforzo di sapere o di capire, se acconsento ad essere completamente come un bambino ignorante e candido, qualche possibilità nuova si aprirà davanti a me. So che ora devo rinunciare definitivamente a me stessa ed essere come una pagina assolutamente bianca dove il tuo pensiero, la tua volontà, Signore, potrà iscriversi liberamente al riparo da ogni deformazione. Una immensa gratitudine sale dal mio cuore. Mi sembra di essere infine arrivata alla soglia che ho tanto cercato. Oh, permetti, Signore, che io sia abbastanza pura, abbastanza impersonale, abbastanza animata dal tuo divino amore, per poterla varcare definitivamente, o appartenerti senza ombra e senza restrizione.